Il Napoli Basket è una realtà importante del territorio che l'Unione Industriale di Napoli è pronta a supportare con ogni mezzo possibile. È il messaggio lanciato dal presidente Unione Industriale di Napoli, Costanzo Iannotti Picci. La generazione vincente Napoli Basket, fresca di vittoria delle ultime Final 8, la Coppa Italia del campionato di massima serie del basket italiano, è stata ricevuta a Palazzo Partanna, sede dell'Unione Industriale di Napoli. I soci della società partenopea sono stati premiati con una targa che cela, molto probabilmente un cammino di collaborazione tra gli industriali e la società che vede al timone patron Federico Grassi. Presenti anche il direttore sportivo Giuseppe Liguori, il coach Igor Milicic e i giocatori Giovanni De Nicolao e Marco Brown. Ecco le parole del presidente dell'Unione Industriale di Napoli, Costanzo Iannotti Picci, il presidente della generazione vincente Napoli Basket Federico Grassi. Sì, un po' come se sta Coppa Italia l'avesse vinta Palazzo Partanna, l'Unione Industriale. Il nostro sentimento di gratitudine sicuramente, ma soprattutto di ammirazione nei confronti degli imprenditori e delle aziende che loro guidano. Venire qui in questo palazzo a essere premiati dall'Unione dà un altro segnale importante a quello che stiamo facendo per il basket. Quindi siamo contenti di questa manifestazione e sperando che da questo possano nascere altre cose. Alle spalle di un progetto come la GEVI abbiamo 100 aziende che portano avanti un sogno. Ai nostri microfoni Alfredo Amoroso, vicepresidente GEVI Napoli Basket, vicepresidente Giovanni Imprenditori Unione Industriale Napoli. Onestamente è qualcosa che secondo me andava celebrato insieme a quelli che rappresentano il tessuto imprenditoriale di questo territorio, di questa realtà. Perché non siamo i soli a spingere questo progetto, è un progetto che prevede altre 100 aziende che ci contribuiscono, danno una mano sostanziale ogni giorno a far sì che questo, che è un po' un sogno della Coppa Italia, potesse poi diventare la realtà che è stata.